ciao buongiorno franco il territorio operatore come ti chiami damiana damiana da dove vieni bene ma vivi qua dove a parte senti una cosa ma oggi fai il tandem perché non tu desideri te l'hanno regalata tu lo sei regalata lo volevo fare ed è arrivato il momento bene regalo molto gradito vedrai che dopo sarà ancora meglio senti hanno spiegato quello che facciamo ti ricordi tutto bravissima mi raccomando divertiti che sei qui per quello e quando sei in volo ricorda di guardare davanti sulle telecamere quindi saluta ridi fai quello che vuoi ok benvenuto al campo volo di reggio emilia e ci vediamo dopo in aereo ciao damiana è a punto damiana ciao 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 Alla grande. Non riuscivo ad urlare. Tutto bene? Bellissimo. Alla grande. Alla fine. Alla fine. Alla fine. Grazie a tutti. Eccoci qua. Oh signore, è bellissimo. Com'è? Stupendo, lo devo rifare. Bene. Vai. Stupendo, lo devo rifare. Mi sei? Alla grande. Brava Damiana. Oh Dio. Complimenti. Tremo ancora. Eh vabbè, è normale. Oh Dio. Sì. 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 Sì.